amici di motosport.com ciao a tutti mi trovo a monza per il gran premio d'italia dove da poco si sono concluse le qualifiche le strepitose qualifiche per i tifosi del cavallino ed è arrivata l'ottava pole position la diciassettesima per charles clerk diciamo che a livello statistico è anche la duecento quarantesima della ferrari e forse questo numero ha anche un suo peso considerando il numero degli altri cerchiamo adesso di analizzare questa qualifica insieme a matteo bobby che saluto ciao matteo ciao franco ciao a tutti gli amici di motosport allora con i tuoi grafici che il team che tu curi ci metti a disposizione possiamo iniziare interessanti analisi questa volta ci hai proposto due grafici non uno solo non solo il confronto tra il poleman leclerc e lo sfidante anche per la gara sebbene sarà costretto a partire cinque posizioni indietro max verstappen che cosa emerge dai numeri e dei grafici allora beh innanzitutto emerge quello che visivamente era chiaro cioè ferrari ha scelto un livello di carico aerodinamico generale più basso indubbiamente rispetto rispetto alla red bull con un ala posteriore dal profilo davvero minimo in casa red bull invece sono stati un po più carichi a livello generale e questo lo si vede molto bene dalle velocità no siamo stati abituati per 14 sono stati scusa stentro sono stati costretti perché loro avevano portato un alla trimata come dici tu tagliata ma non possono usarla perché sfarfalla durante l'apertura del diarese e la figlia gli ha detto che per motivi di sicurezza se non si mettevano a posto non l'avrebbero potuto usare quindi da una difficoltà tecnica una volta tanto forse è nata un'opportunità per la red bull è nata un'opportunità allora nel primo rettilineo arrivano quindi quello che porta la prima variante arrivano alla stessa alla stessa velocità questo perché perché drs aperto per entrambi ecco drs della red bull continua nonostante siano più carichi no di di come ala ad essere più efficiente rispetto a quello della della ferrari e infatti arrivano alla stessa velocità escono poi dalla prima variante e arrivano alla roggia altro tratto totalmente a gas aperto lì non c'è drs invece e si e si evince che la ferrari arriva con otto chilometri orari in più figlio del fatto come dicevamo prima che il livello di no da un for generale e quindi livello di drag generale in questo caso è minore lato lato ferrari e si vede molto bene perché lì è tutta una zona di guadagno bel guadagno anche per per la ferrari chiaramente poi franco quando sei molto molto scarico paga primo primo settore soprattutto poi arrivano però le curve anche arrivano le curve soprattutto l'esmo 1 l'esmo 2 ascari ecco tutto quel tratto lì è terreno di caccia di max che ha una vettura con molto più grip lo si vede anche dal dal on board non muove tanto grip quasi sui binari se guardi leclerc lì si è preso dei bei rischi nel giro di qualifica la macchina è molto sulle uova fai fatica a fare tanti giri no con quel movimento lì di macchina e poi chiaramente via via un po si ripete il il trend diciamo visto con nella prima parte di giro quindi due scelte di setup diversi ecco mi viene da dire coraggiose da parte della ferrari hanno provato dalla scarica spa ed erano andati in crisi totale erano tornati indietro e avevano perso il grip nel famoso t2 che avevamo commentato qui invece quantomeno c'è un equilibrio di base indubbiamente migliore c'è un equilibrio di base indubbiamente migliore è una pista anche dove probabilmente non sono stati costretti ad alzare chi lo sa la macchina così tanto rispetto ad altre perché notavo che tutte le macchine di quest'anno della nuova generazione che sappiamo essere più basse più rigide no della precedente usano molto meno i cordoli eravamo abituati a vedere e tagliare tantissimo la roggia soprattutto quest'anno si girano quasi intorno proprio perché ogni qualvolta che muovi no e vai a ad alzare il suolo il pavimento della macchina perdi inevitabilmente tanto downforce e quindi hanno una piattaforma molto rigida anche e quindi forse il fatto che quest'anno abbiano dovuto alzare meno la macchina rispetto a spa magari rispetto a zandward che c'erano le le compressioni forse anche questo gli ha un po aiutati e poi credo che di motore perché abbiamo visto dei bei numeri di motore anche a livello di accelerazione perché togliamo togliamo la top speed che è figlia dell'aerodinamica molto ma la curva di accelerazione non è figlia dell'aerodinamica tanto quindi si vede che ci hanno dato della potenza oggi maranello ha usato mappature più spinte credendoci credo che vogliono osare la polla hanno tenuta provare a lottare magari rompere il motore però essere lì per per giocarsela davanti ai 120 mila che sono attesi domani ti posso dire una cosa io sono qui a monza e ho avuto modo finalmente di parlare con una fonte diretta della fia e rispetto ad altre piste dove le macchine si sono dovute alzare di più come hai detto tu qui la differenza è di un paio di millimetri e basta quindi diciamo che lo scostamento medio fra i due e tre millimetri roba che non condiziona in modo particolare quelle che erano i progetti di base con cui le macchine sono nate e questo è un altro dato indicativo anche sul risveglio della ferrari corretto correttissimo perché sai monza innanzitutto hai tutti usano un livello di carico basso e quindi questo comporta meno schiacciamento no a terra e poi come dicevo usano molto meno i cordoli ma è molto evidente proprio ad occhio nudo ho preso un on board dello scorso anno e sembra un'altra pista la roggia in realtà la pista e i cordoli sono fatti uguali soltanto che questa nuova generazione di macchine gestisce meno i cordoli rispetto al passato e quindi tutto questo poi i tecnici lo riversano sul dover alzare meno la macchina e quindi altezze da terra minime più coerenti con quello che era l'inizio stagione e quindi gli effetti sono tornati buoni io credo che io mi aspettavo mi aspettavo matteo che a questo punto della stagione si sarebbe cominciato a vedere un avvicinamento dei tempi della pole position a quelli se non dell'anno scorso certamente magari più vicini a quelli l'anno scorso ma comunque più vicini anche a quelli che rappresentano il giro più veloce e cioè il 2019 noi abbiamo apprezzato l'120 161 ma il tempo record che è quello di emilton del 2020 è 18 887 la differenza è grande tu però hai messo adesso un dato interessante perché magari guidando alla vecchia maniera come si poteva fare aggredendo i cordoli è un attimo togliere un secondo su una pista come quella di monza quindi in prestazione pura forse al di là del peso di tutte le differenze le gomme più alte eccetera si comincia a inquadrare la situazione sì se noi prendiamo le curve di media alta velocità le vetture della nuova generazione sono identiche praticamente a quelle del passato se non che anche in alcune curve veloci sono addirittura più veloci questo perché l'effetto suolo fa tantissimo no poi però se guardiamo le curve lente e ci sono delle curve lenti a monza perché la prima variante una curva lenta la roggia una curva lenta ecco lì invece sono tantissimo più lente rispetto al passato un po perché sono molto più pesanti e quindi ovviamente nel tutto peso che ti porti in più in frenata in accelerazione eccetera eccetera e poi perché è qua a monza l'andare sul cordolo ti fa tagliare molto di più fai meno metri hai un angolo di uscita più favorevole fa tantissimo no e quindi credo che come dici tu sia la differenza di tempo sia molto figlia di come usi cordoli e e vedrai che l'anno prossimo svilupperanno perché secondo me anche conoscono di più le gomme adesso e che sono nuove anche quelle e che generano più sottosterzo e quindi vedrai che anche l'anno prossimo come vedremo anche geometrie magari sospensioni diverse chi lo sa Matteo tu ci hai offerto anche un secondo grafico che mette a confronto Sergio Perez con il tempo di Max Verstappen e lì che cosa viene fuori e allora lì viene fuori innanzitutto viene fuori che va più piano in rettilineo Perez e non di poco anche perché se prendiamo l'arrivo della prima variante ci sono sei chilometri a favore di Verstappen ora se tu hai la stessa tipologia di motore lo stesso tipologia di ibrido e la stessa configurazione aerodinamica io da compagno di squadra se vedo sei chilometri non sono contento no prima prima cosa che mi viene in mente poi però si vede anche che Max va più forte in tutte le curve ma più forte in tutte le curve a centro curva e va più forte soprattutto perché a guardare un po' Perez in molte curve mi sembra che voglia un po' essere troppo aggressivo in frenata cioè un po' in over driving in frenata mi hai tolto la parola di bocca perché nel grafico del troppo quello in basso si vede nettamente che la linea rossa si prolunga rispetto a quello che è il grafico di Verstappen evidentemente lui esagera nel forzare l'ingresso curva e poi si trova in difficoltà nel momento in cui deve riaprire il gas bravissimo e ci sono due punti in cui è molto evidente l'esmo 1 e l'esmo 2 guardiamo anche Verstappen bianco Perez rosso il punto minimo di velocità di Verstappen è prima rispetto a Perez questo è proprio quello che dicevamo cioè Perez porta troppa velocità nel primo quarto di curva automaticamente poi si trova in estremo ritardo nell'applicare acceleratore il problema che guadagna Perez in 15 metri di pista ma ne perde in 300 metri dopo perché dopo c'è tutto un rettilino che va alla scarica ecco è proprio una modalità ed è classica questo Franco quando tu costantemente guardi il monitor dei tempi e sei lento è la natura del pilota a un certo punto provare qualcosa e vai in over driving e quando vai in over driving vai ancora più piano è un cane che si morde la coda e non è facile perché è successo a me mille volte ma è successo a tutti i piloti questo e quindi lì devi fare un reset che non è facile va bene adesso siamo proiettati a quella che sarà la gara siamo curiosi di vedere se questa sfida che si accende domani su basi rovesciate come abbiamo detto porterà magari a qualche cambiamento anche del risultato anche se chi è nel paddock scommette molto più facilmente su un'ennesima vittoria purtroppo di Max Verstappen vediamola io dico sempre che di facile non c'è niente intanto l'Eclerc partirà primo e Verstappen indietro arriverà velocemente però comunque sai tutto tutto tempo che intanto guadagna l'Eclerc quindi godiamocela vada come vada e godiamoci i trecento ventimila spettatori in tre giorni Franco bellissimo tantissimo e non ti dico l'ambiente che c'è qui è veramente fantastico no la cosa che sarà interessante per chiudere è capire se il decimo e mezzo che si è visto in pista nel giro secco che cosa si trasforma nel passo gara perché con meno di due decimi il sorpasso diventa veramente molto difficile anche se puoi esprimere una velocità maggiore e se invece la finestra per il consumo delle gomme per l'usura si dovesse aprire allora diventa possibile il ritorno quella sarà un po' la chiave con la quale immagino dovremo andare a leggere la prima parte della gara per capire nella seconda cosa potrà succedere assolutamente sì è proprio quella la chiave diciamo che sulla carta e la red bull dovrebbe avere meno degrado della della ferrari non fosse altro per la scelta di downforce effettuata però ripeto è tutto da vivere da vedere le gare hanno poi ogni volta un una lettura diversa quindi vediamo amici motosport siamo arrivati in fondo grazie per averci seguito fino ad ora saluto matteo bobby al prossimo gran premio che sarà come tu sai a singapore assolutamente ciao a tutti ciao ciao Grazie a tutti.